Ciao ragazzi qui da Bocchiucetta, benvenuti a questo nuovo vlog e anche qua mi sto pettinando e e ora mi sto preparando quella mia festa di compleanno beh, in realtà il mio compleanno è il 6 dicembre il mio compleanno ma in realtà qui qua, faccio due feste qua, una ci diceva e una oggi e infatti qua e infatti qua mi sto preparando quella mia festa qua poco arriva arriva i miei amici, i miei parenti tutti tutti i miei parenti forse, non si sa beh comunque io mi sto pettinando qua mi sto preparando farmi fare figure di eh comunque mi sto preparando sto preparando non voglio essere una sporcazione mi sto preparando mi sto preparando mi sto preparando perché beh qua qua io dopo il giorno in questo momento sono oggetto sono oggetto sono oggetto sono oggetto perché non vedo l'ora su cui fa fredda si però ti fa avere tanti regali mangiare tanti dolci che gli accade mi voglio essere a dire che veramente mi voglio andare a dire questa cosa beh comunque beh beh in effetti ehm vabbè allora ragazzi ho chico 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 e gothiccare il video e allora sì ho magari iniziatta la festa ho il mio cucino è la cacca mia e lui ha fallo che al mio cucino al mio cucino il mio il mio computer ok mentre presento a Morgan c'è vergogno un po' si molto lui la mia che ha 10 anni non so chi può magari il bambino di 10 anni non so ma è il suo computer per favore Morgan c'è un che la fama cosa qua dai ok 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 ma come te lo comando ah eccolo mannaggia te io c'ho impiegato due ore ok allora dobbiamo andare su ok dove hai messo è a di amore 2 ok ce l'ho fatta quanto ci impiega faccio il messo è arrivato qualcuno c'è i miei amici i miei amici i miei amici quanto ci impiega beh 10 minuti spero non di più ma ci hai scaricato qualcosa dentro oh è andato oh come di miei amici che è uscito c'è uscito devi mettere la password Gabri si eeeh no non vi diamo dire il la password che abbiamo con più che sono cavoli comunque è la brics maragliotti bello buon natale a tutti buon natale anche a me grazie buon natale grazie bene ragazzi ci vediamo a natale no bello aia ma è già il natale non va 2 ore vabbè allora è il natale è arrivato ok hai scaricato giusto i 5 no ah ok vabbè allora Minecraft io so che ora sto pensando di fare un video un video su Minecraft te lo faccio fare io i video su Minecraft guarda cosa ti faccio ora guarda guarda guardate popi popi eeeh perchè le mie cartelle sono dei fogli perchè sono dei fogli ma vabbè cosa vuoi da me stacchi di carne non lo so io ah ok sta facendo su casa guarda le mani io ce l'ho qua guarda guarda allora aspetta ah calvati ok ok ce l'ho fatta allora andiamo su dove hai scaricato Minecraft sono arrivati Gabriele sale in gioco ok che sono arrivati da me le sale in gioco ah da me le sale non mi hai scaricato questa è la cartella di Minecraft guarda questa è la cartella di Minecraft no? si, fare gli immobili degli arregamenti, delle case, gli arregamenti andiamo un attimo su internet così ti scarico ma stai ancora registrando? si, si perché? che cominciai no 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 dai perché che cominciai? youtube muoviti dai youtube scrivi, no non andare vabbè me ne importa scusa posso scrivere grazie, è molto gentile youtube 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 ecco qui youtube 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 ok le ragazze le aspetta fammi iscrivere allora o mette 3 2 3 3 1.2 ti scarico ti metto anche la 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ok ciao a tutti ciao a tutti bella vai via ciao a tutti ciao a tutti vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua memole live seguitela su youtube memole live memole live oggi siamo qui perché dobbiamo festeggiare cosa gabri? 1.2 2 1.2 1.2 1.2 1 3 4 5 a 5 ok ciao alla prossima oh ma tua guarda il caffè di stoffarello l'innoa l'innoa hai detto zio salvo che c'è una panda dai vieni ciao vuoi quella? no? ma che cosa vuoi mamma? che cosa? ma cioccolato? cioccolato no se vuoi c'è la pizzetta o questa vuoi c'è la sfogliatina? vuoi la sfogliatina? cos'hai che vuoi? un gaffi gaffi però ci mettiamo vicino a tavola va bene? ecco eh tieni qua tieni tieni vado tieni lo portiamo a tavola appoggiamolo a tavola oh ecco il dopo che vuole conquistare il mondo ecco il dopo che vuole conquistare il mondo chi ci occupa? sai coprire il cartone dei tomi? è uguale io prenderò la terra wow l'hai preso? come hai fatto? gliel'ho fatta chiudere con la gamba da gamba no ce l'ho io aspetta no io vorrei giocare no lascia come fai a farla muovere? eh che quella c'ha una cittura di una conga oh già per cagnolino non ci credo sono in braccio ragazzi ci hai saltata la luce chi cazzo? è saltata la luce qua ecco come si vanno E se abbiamo usato con più di dispositivi, usco, guarda Amri Eh sì, cerchiamo troppe cose non va bene Ciao, ma non si Ma è vero che è difficile Ciao, a volte va, a volte non va Ciao, a volte va e come non va Ciao bella Mi fa volare, mi fa volare però Ma che sei giovane, mi lo è giuro Gavri, Gavri, devi andare a spegnere il computer Ok, poi andrò a spegnere il computer E ragazzi, coppia che non si accede perché mostramano il cucino, proprio no E con l'aereo scrivo in cielo perché tu lo veda Aspetta che ti imposto Il cazzo che me ne frega Buon finito qua, mi raccomando Mi bella like, questo era il compleanno di mio cugino Gabriele Speriamo 2 milioni e 400 like Ciao Ciao, ciao ragazzi Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao